Questa trasmissione è offerta da Confartigianato Udine. Grazie per la visione! 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 erano ingegnari aerospaziali. Adesso si riprende a fare i cosiddetti voli suborbitali con dei velivoli che praticamente arrivano fino a 100 km di altezza, perché questa è una tecnologia che ormai ha ripreso piede. Quella volta era tutto sperimentale e questo giustifica i 36 poveri collaudatori che hanno perso la vita in questi esperimenti. Poi hanno perso la vita anche tre astronauti in un test a terra, peraltro, e dopo magari ne acceniamo. Queste sono immagini più recenti, ma rendono l'idea di cosa si sono potuti trovare di fronte loro una volta che si sono avvicinati alla Luna. Ricordiamo che sono partiti con una macchina che è ancora la più potente macchina costruita dall'uomo, ovvero il Saturno 5. Saturno 5 è di progetto Werner von Braun, è il più potente vettore, in realtà poi il più potente sarebbe il vettore energia dei russi, che però ha delle limitazioni e quindi non è un sostituto perfetto. Quindi il Saturno 5, ancora missile a tre stadi, rappresenta il top dal punto di vista della possibilità di portare l'uomo sulla Luna. Adesso abbiamo l'altro vettore che hanno messo a punto per l'esplorazione di Marte, però diciamo per l'epoca questo era Saturno 5, il non più ultra. Alto oltre 100 metri. Qua vediamo, vedete, non ho stabilizzato nulla, ho lasciato le immagini originali. Mi piace molto perché rende un po' l'idea anche del tempo. Queste erano delle telecamere, delle fotocamere, telecamere Hasselblad che ovviamente loro gestivano a mano, per cui si vede la vibrazione, sposta, metti, inquadra come in questo caso. Tra l'altro è mica facile riprendere la Luna con i contrasti di luce che ci sono. Tanti contrasti, ma poi teniamo conto che quella volta non c'erano le tecniche di stabilizzazione di immagine che adesso abbiamo anche nei nostri smartphone, sia stabilizzazione ottica spostando leggermente le ottiche in funzione della variazione del campo, ossia elettronica. Qui proprio si vede che queste oscillazioni sono dovute al fatto che si riprendeva direttamente quello che si vedeva. Ecco Mauro, il mondo ha seguito col fiato sospeso, soprattutto la parte finale dell'avvicinamento e dell'allunaggio, diciamo. Io ho intitolato, avete visto, attoccato perché c'era la questione famosa del nostro giornalista Tito Stagno con l'altro giornalista in collegamento da New York, Ruggero Orlando, che diceva no ha toccato o non ha toccato, ma soprattutto quello ha toccato era preceduto da una fase molto concitata con problemi anche di orientamento legati al funzionamento del computer, computer che era un giocattolo rispetto a quelli di adesso. Infatti non sono i computer che abbiamo adesso con dieci core di calcolo, con memorie incredibili, anche perché soprattutto per queste missioni si usavano delle tecnologie che erano consolidate, cioè non quelle che erano il top dell'epoca, ma almeno una generazione precedente per essere più sicuri che avrebbero funzionato. Quindi computer che avevano un numero limitato di bit che facevano dei conti molto più lentamente di quelli di adesso. Per cui questo ha creato dei problemi in varie fasi, in varie situazioni, proprio e c'era la necessità che il centro di controllo a terra facesse dei controlli ulteriori con i computer che si trovavano nel centro di controllo. Questo consentiva di ovviare abbastanza rapidamente a possibili problematiche. Qui vedete intanto una ricostruzione con riprese molto più moderne fatte da una nave spaziale che ruota intorno alla Luna, che mostra il sito di atterraggio dell'Apollo 11, che è stato anche messo in dubbio che siano allunati, ma in realtà immagini più recenti mostrano addirittura il percorso fatto a piedi da Armstrong che a un certo punto si è allontanato anche di una settantina di metri. Ma sì, ormai con la risoluzione dei sistemi di ripresa di questi moduli orbitanti possiamo vedere addirittura i pezzi lasciati o anche delle emissioni che si sono schiantate e non hanno avuto successo. Quindi diciamo abbiamo le prove sperimentali galileiane che siamo andati lì e che abbiamo lasciato anche un po' di spazzatura, tra virgolette, perché è inevitabile per quanto si cerchi di non inquinare, ma le parti che ormai non funzionano più rimangono lì. Rimangono lì e rimangono lì più o meno come sono, non essendoci atmosfera praticamente o una tenuissima atmosfera. Esatto, perché la Luna ovviamente ha una massa che è molto inferiore a quella della Terra, quindi la gravità è un sesto della gravità terrestre, la Luna non è riuscita quindi per questo a mantenere un'atmosfera di nessun tipo. Ci sono delle molecole residuali di gas che derivano dal riscaldamento elevato della parte illuminata dal Sole, ma non c'è un'atmosfera vera e propria, per cui non c'è una corrosione dovuta appunto a fenomeni chimici dell'atmosfera su nulla che si trovi. Ecco, tra l'altro una questione era proprio il differenziale termico tra il lato dell'astronave sposta al Sole e quello in ombra, perché le differenze erano tante. So che hanno cercato un luogo di atterraggio anche per avere un po' inclinato il Sole. Sì, per cercare di avere un'inclinazione di raggi solari che fosse non tanto diretta, quindi con un angolo diciamo più piccolo, proprio per minimizzare queste escursioni termiche che andavano da pochi gradi sopra lo zero nella parte illuminata fino a 125 gradi sotto lo zero nella parte non illuminata. Intanto vedete l'astronauta che scende, poi toccherà con il piede, avete sentito prima nel video introduttivo la voce di Neil Armstrong che diceva un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità e queste sono le fasi sempre difficili. Attenzione, ci muoviamo in un ambiente ostile, molto ostile da un certo punto di vista e anche con una gravità diversa, usciamo da un'astronave che è poco più di una scatola di tonno, per scherzare naturalmente, però un oggetto leggero, doveva essere leggero per arrivare lì. Ci fermiamo per la pubblicità e continuiamo il discorso con Mauro Messerotti e poi vediamo anche che tempo farà nei prossimi giorni. Eccoci di nuovo con Meteo Weekend, dunque l'astronave, il Saturno 5, porta i nostri astronauti fuori dall'orbita terrestre, poi viene lanciato verso la Luna, è una specie di proiettile che rallenta, 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 finché poi viene catturato dalla gravità lunare, torna a accelerare e in quel momento poi si separa il LEM, Mauro Messerotti, e comincia questa discesa molto pericolosa, discesa che gli astronauti dell'Apollo 10 non hanno potuto effettuare fino in fondo. Infatti quella è stata una grandissima frustrazione, anche se erano ovviamente preparati a qualsiasi tipo di eventos che succedesse, però appunto non hanno potuto, nonostante fossero lì quasi sul posto, quindi posso capire la frustrazione che ha avuto l'equipaggio, di poter effettivamente allunare in maniera come era previsto dalla missione effettiva. Pensate il test prevedeva proprio quest'ultima prova fino all'EM che si sgancia dalla nave madre, scende un po' e poi deve tornare su, riagganciarsi e tornare a terra. Insomma questa è stata la storia, però la storia è stata anche quella degli ultimi metri col carburante che andava a esaurirsi e Neil Armstrong con una freddezza pazzesca nel gestire la cosa, ma con 150 battiti al minuto cardiaci è riuscito a portare a terra con Buzz Aldrin il LEM. Infatti anche quello è stato veramente un'impresa eccezionale, perché chiaramente sì, coinvolgimento emotivo enorme, ma freddezza di portare a termine e quindi di salvare quello che si poteva appunto salvare, come effettivamente è successo. Ricordiamo anche che nel frattempo, prima di questa missione, comunque i russi, i sovietici erano riusciti a fare la prima passeggiata extraveicolare nello spazio, cosa che gli americani ancora non era riuscita, quindi era tutto un po' nuovo, i rischi erano altissimi. Certo, perché ancora molte cose non si conoscevano dal punto di vista proprio operativo, come può essere l'attività extraveicolare, a che radiazioni viene soggetto l'astronauta che si trova al di fuori del veicolo, la connessione con questo cordone umbilicale che deve mantenerlo in vita, tutte cose critiche che poi pian piano si sono consolidate nel tempo, ma ci è voluto tempo per, diciamo, avere una tecnologia che fosse affidabile. Quelle tute, parliamo di quelle tute, costosissime, dovevano proteggerli, oltre dagli sbalzi termini incredibili, anche dalle radiazioni cosmiche, solari, insomma, forse non potevi stare neanche tanto. No, perché comunque, diciamo, ma neanche le tute di adesso costituiscono una protezione totale per le radiazioni ionizzanti che provengono dal sole e tramite i raggi cosmici, sono particelle di alta energia, quindi un po' possono... ecco, in questa immagine è bello perché si vede la protezione che è una sorta di foglia d'oro che ricopre proprio lo schermo frontale, la visiera, diciamo, dell'astronauta. E anche questa tecnica è stata messa proprio appunto per gli astronauti che andavano sulla Luna perché devono proteggere gli occhi dalla enorme radiazione solare riflessa da questo terreno regolit che era anche molto riflettente e poteva essere un problema per l'occhio. Da lì poi sono nate tutte le applicazioni nell'ottica e nelle varie ottiche, no? Per trattare gli obiettivi e così via. Quindi anche il grosso progresso tecnologico anche per noi a terra. Qui vediamo immagini naturalmente la bandiera, che non sventa perché non c'è l'aria, ma è impostazione fissa. Cosa ci ha lasciato tutta questa serie di missioni che, come hai ricordato, sono finite con l'Apollo 17 nel 72? Sì, ce ne sono state solo sei di queste 17 che hanno effettivamente con successo portato l'equipaggio umano a lunare. Ci hanno portato conoscenza, conoscenza dal punto di vista astronomico ed astrofisico, perché è stato possibile capire la costituzione del terreno, il regolit che ha uno spessore, diciamo, da un metro fino addirittura a 100 metri nei crateri, quindi questa sorta di frammentazione polverosa di pietra e di sabbia che deriva ancora dalle fasi, diciamo, molto attive di collisioni a cui la Luna è stata soggetta nei tempi precedenti di formazione. Abbiamo capito quindi la geologia, abbiamo portato sulla Terra dei frammenti di roccia che sono stati analizzati nei laboratori e quindi è stato possibile misurare, lasciando un riflettore per raggio laser sulla Luna, la distanza precisa tra la Terra e la Luna, che naturalmente cambia, cioè non è continua. E poi tutto il progresso tecnologico, perché anche questo è la solita, diciamo così, cosa che il cittadino dice, ma perché dobbiamo spendere tanti soldi per fare queste missioni? Perché abbiamo imparato tante tecniche e l'utilizzo di nuovi materiali. Una sciocchezza, per esempio, i guanti degli astronauti avevano per la prima volta trovato il modo di chiuderli bene sul polso con lo stretch, che noi adesso prendiamo in qualsiasi, diciamo, posto. Lo stretch è nato proprio come tecnica per gli astronauti, quindi per i guanti degli astronauti. Dicevo poi della visiera ricoperta appunto da uno strato molto sottile d'oro e diciamo di metalli di quel tipo. Abbiamo fatto grandi scoperte dal punto di vista della astrodinamica, quindi del modo in cui questi veicoli devono essere lanciati, è programmata la traiettoria, l'atteraggio e teniamo conto che era eccezionale per l'epoca il fatto che ci fosse un modulo che veniva rilasciato, allunava e dopo però ripartiva nuovamente e tornava su. Questo ancora non... sappiamo l'ultimo esperimento che è stato fatto appunto dai privati di quell'astronave che però sulla piattaforma è, diciamo, atterrata, però non è atterrata in maniera corretta. Ci arriveremo, però teniamo conto che qui eravamo fine anni 60. Eh ma difatti, ma secondo te si perde un po' di quella capacità acquisita col fatto che abbiamo abbandonato questo progetto, siamo passati allo shuttle, ad altre cose e bisogna ricominciare da zero oppure ci si può riagganciare? No, si perde. Ecco, finiscono a dire ancora una cosa importante. Eccola qua. Ah ecco, appunto, la ripartenza del modulo lunare, il LEM. Importanti scoperte di medicina spaziale, quindi proprio sulla fisiologia e il comportamento del corpo umano nello spazio, perché questo è una continua acquisizione. Ecco, qui c'è il rover, che appunto ha consentito di esplorare una regione un po' più ampia intorno alla zona di allunaggio. Dicevo, c'è il problema che... Guarda il passaggio qui, scusi. Sì, sì, sì. Ecco, chissà. C'è il problema che si perde quello che si dice in inglese know-how, cioè conoscenza ed esperienza, perché per molti decenni il programma di esplorazione lunare è stato abbandonato, perché non c'era più l'interesse, non c'era più la corsa appunto tra l'Unione Sovietica e, diciamo, gli Stati Uniti e così via. Non c'è più un Werder von Braun grande progettista di vettori. Ecco allora che la NASA adesso, diciamo, fa dei contratti... Si affida a Elon Musk. Ecco, si affida dei contratti con dei privati, perché non c'è più il genio che sia in grado di fare questi progetti che poi hanno condotto appunto ad arrivare sulla Luna. Dove vogliamo tornare? Esatto, dove adesso ritorneremo. E anche i team ormai si disperdono, perché non c'è più il finanziamento, le persone vanno a fare altro, perché devono comunque vivere. E le conoscenze sì, sono immagazzinate, in testi e così via, però non è la stessa cosa che mantenere vivo un team che possa poi, diciamo, propagare queste conoscenze. Ci ritorneremo. Ci sono vari programmi per tornare sulla Luna. Noi l'abbiamo vissuto, è stata un'emozione grandissima, anche per me ero bambino, ma insomma bambino già appassionato di questi temi, ed è stata un'emozione, sono potuto stare in piedi fino a tardi, anche io mi hanno permesso, e quindi è stata un'emozione enorme, lo ricordiamo, 50 anni dopo quest'anno ci saranno naturalmente fra poco altri modi di, verrà naturalmente ricordata a tutti i livelli, questa grandissima impresa, io ho anche la penna con l'astronauta che mi ha regalato mia figlia, e passiamo alle previsioni del tempo, perché ha fatto caldo anche oggi, sia pure un pochino meno della terrificante giornata di ieri che ha distrutto svariati record, soprattutto sulle nostre montagne, dove c'era meno umidità, dove l'aria era più secca, sono caduti tanti record, anche assoluti, non solo per il mese di giugno, questa è la situazione di oggi, che dire, sereno, ovunque, qualche addensamento modesto a ridosso dei rilievi, soprattutto temperature che sono arrivate ancora a 36 gradi in pianura, 34 lungo la costa, soprattutto le temperature minime sono state altissime, il valore più basso 23 in pianura, sulla costa addirittura il valore più basso 27, sono valori davvero importanti. Vediamo la situazione che è ancora di alta pressione, questa è la situazione al suolo, l'alta pressione governerà anche nei prossimi giorni, però cambierà un po' l'assetto e la posizione dell'asse e della figura in quota, arriverà dell'aria, non possiamo dire fresca, leggermente più fresca e anche temporaneamente più fresca, perché poi domenica di nuovo si alzeranno i nuovi valori in quota. Comunque il tempo rimarrà stabile, almeno fino a lunedì, martedì forse c'è qualche temporale in vista. Passiamo pure alle previsioni, domani poco da dire, cielo sereno su tutta la regione, a tratti poco nuvoloso sulle zone prealpine e sulle zone più occidentali. Temperature come vedete in lieve calo, fino a 33 gradi, ma vi ricordo che siamo comunque intorno ai 4-5 gradi, sopra la media di questo periodo. La domenica niente, sereno o al più qualche velatura, si fa strada da ovest nella seconda parte della giornata, i venti che sono deboli a regime di brezza, quota dello zero termico di nuovo a 4.000 metri, temperature massime fino a 35 e forse anche localmente di più. Andiamo alla prossima carta, che ci mostra l'Italia, e qui andiamo velocissimi perché come vedete sabato è sereno ovunque, qualche cosa sulle prealpi più occidentali, domenica possiamo vederlo, proprio il sereno domina ovunque, farà caldo anche al sud in questo caso, vediamo pure la carta successiva con i nostri scenari di lungo termine, con gli spaghetti, ecco vedete, se sta per esserci questo breve temporaneo calo, poi risale la temperatura su valori sempre molto elevati, intorno ai 20 gradi alla quota di 1.500-1.600 metri, poi ci sarà una graduale discesa e forse martedì avremo qualche temporale in più, una leggera rinfrescata si fa per dire, perché comunque rimaremo di nuovo ancora su valori più alti della media. Passiamo ai riepiloghi, lunedì bel tempo, da segnalare solo nel pomeriggio qualche locale isolato o isolato temporale sulle zone di confine tra la Carnia e il Cadore, ma veramente, insomma anche con dei dubbi, per il resto bel tempo 35 gradi, ecco martedì arriva dell'aria un po' più fresca, un po' più umida, un po' più stabile, allora in montagna il cielo si fa più nuvoloso, la possibilità di rovesci è temporale a carattere sparso, in pianura si passerà da un poco nuvoloso a un variabile, con la possibilità di temporali sparsi, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, però come osservate non è che scenda molto la temperatura, 3.900 metri o zero termico, fino a 34 gradi, comunque i valori massimi. Mercoledì tra 20 e 34 gradi, con il cielo di nuovo sereno o poco nuvoloso, siamo all'ultima parte della settimana per concludere, con un giovedì che vede di nuovo qualche temporale in più in montagna, molto difficile o direi quasi escluso in pianura, e venerdì bel tempo, e poi sabato forse di nuovo qualche temporale in più. Sì, qualche cosa diciamo, vediamo, però la realtà è che le temperature sono sempre abbondantemente superiori ai 30 gradi, forse proprio nel weekend prossimo potremo avere una giornata più o meno normale, tra 17 e 30 gradi, bel tempo, qualche isolato temporale in montagna. Direi che con il meteo è tutto, ma naturalmente ringraziamo anche Mauro Messerotti per essere stato con noi, per aver ricordato insieme a noi questa epopea del viaggio, del primo allunaggio della specie umana, insomma il satellite è stato raggiunto 50 anni fa, ora ancora lo vediamo lì, ci sono mille progetti per arrivarci, però insomma ci vorrà ancora qualche anno, un'ultima battuta, ma... Ci vorrà qualche anno, perché poi si vuole andare su Marte, ma non tantissimo, perché appunto gli Stati Uniti, cioè la NASA ha inserito di nuovo la missione sulla Luna, proprio propedeutica la missione su Marte, ma poi c'è anche la Cina, c'è l'India e c'è anche l'Agenzia Spaziale Europea, pertanto... Vedremo, diventerà forse anche territorio di sfruttamento dei minerali in un futuro, chissà. Staremo a vedere, io ho finito, vi saluto, vi auguro buona fine settimana e noi ci vedremo più avanti, diciamo anche col Meteo, ma per Meteo Weekend, con il meglio di Meteo Weekend in queste prossime settimane. Arrivederci a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Confartigianato Udine Confartigianato Udine